Un'inchiesta della rete Canal Plus svela le bugie di Stato dei francesi. Si torna a parlare della strage di Ustica. Era il 27 giugno 1980, mancava un minuto alle 21. Un balliore nel cielo e il 19 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, si squarciava, precipitando nel mare di Sicilia. I morti furono 81 tra i 77 passeggeri, 13 erano bambini. 35 anni dopo si rilancia l'ipotesi dei caccia d'oltrealpe all'inseguimento del MiG libico in volo vicino al nostro sfortunato aereo. Nel 1999 l'istruttoria aveva definito ignoti i responsabili del disastro e deciso il non luogo a procedere. Nel 2007 la Cassazione aveva negato i depistaggi, ma Cossiga, premier all'epoca dei fatti, aveva chiamato in causa Parigi e ribadito il coinvolgimento francese davanti ai magistrati. Oggi il documentario di Canal Plus conferma la presenza della portaerei Clemanson nel Mediterraneo la sera del 27 giugno e la piena attività della base militare di Solenzara, in Corsica, sempre data per chiusa dai francesi. L'abbattimento del 19 italiano sarebbe stato quindi il danno collaterale di un'operazione contro Gheddafi, allora nemico giurato di Parigi. Una lettura dei fatti che l'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica sostiene da sempre. Proprio ieri il Tribunale di Palermo ha chiesto per loro un risarcimento di 12 milioni di euro ai Ministeri dei Trasporti e della Difesa. Forse dopo le ammissioni dei protagonisti a Canal Plus il governo italiano potrà chiedere conto ai francesi con maggior forza delle bugie e dei depistaggi, come ha domandato anche il Movimento 5 Stelle. E le nostre vittime potranno finalmente riposare in pace.